sta tutto scritto, sta tutto segnato, chi per la mano, chi per la tua mano, quello per questo e questo per quello, sta tutto scritto, sta tutto segnato ma tu sta scritto, a dove era segnata una sorta triste che aveva un grigio, e chi è questo un fan, questa madonna che segna e scrive dentro questo libro e che dice, ma tu, tu no, tu sì non si trova una pagina caduta, vuole dar l'intrasata a rindo un libro con una foglietta, un appunto, non si trova né per l'aria, né in terra quasi fosse, che una pagina solo si trovasse, con un appunto segnato, una parola, se potesse con certezza sapere qual è la mano che scrive e se sapesse se si scrive con uno scopo, una ragione, una sfizia soltanto o solamente per malvagità a dove sta scritto? a dove era segnata una sorta triste che aveva un grigio, e a dove si mette la sorta? per non si fa vedere il primo tempo, il primo giorno, l'ora e il tuo momento che ha dato un bambino a trattamento a metterla in davos, vedi le parole a tutti, su te pensi, sa mesca mesca il mosso che ha fatto non ti sposate quando si è felice, e quando si è nascuta, non ti dici bello che vedi... Grazie a tutti.